segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te professore buonasera buonasera e benvenuto allora professore per quello che si è capito giorgia meloni chiede che il prossimo presidente il prossimo premier sia espressione diretta della volontà popolare almeno questo sarebbe il suo obiettivo ha ragione io non penso che questo sia il suo obiettivo credo che il suo obiettivo sia fondamentalmente di raggiungere due scopi durata del governo e coesione del governo tant'è vero che ha lasciato aperto il modo di investitura del governo cioè chi manda al governo qualcuno parlamento o popolo potrebbe non essere attraverso una elezione diretta dice lei attraverso quali strumenti semplicemente il parlamento perché e questo l'ha spiegato in realtà ci tiene a mantenere la figura del presidente della repubblica come una figura di equilibrio e se il presidente del consiglio fosse eletto direttamente dal popolo nel dialogo col presidente della repubblica avrebbe un'investitura maggiore di quella che c'è il presidente della repubblica evidente sarebbe messo in ombra dall'uomo eletto dal popolo dall'uomo eletto dal popolo o dalla donna donna eletta dal popolo certo quindi in questo senso le sue preoccupazioni sono per ora limitate a questi due aspetti qui però sa perché glielo chiedo perché effettivamente noi poi tra poco avremo ellis line segretario pd però all'uscita dal da questo incontro ellis line ha detto fatto capire che insomma sul tema della famosa sfiducia costruttiva ora poi ci spiega che cos'è sul tema del post insomma del poter revocare i ministri lì c'è uno spazio di discussione lo spazio di discussione non c'è sull'elezione diretta di capo del governo o presidente della repubblica è come se schlein avesse capito che invece l'obiettivo del governo di giorgia meloni fosse un investitura diretta perché altrimenti credo che l'accordo sarebbe abbastanza semplice ci spieghi bene che cosa sarebbe questa sfiducia costruttiva che c'è già tra l'altro in germania se non sbaglio e sì il copyright ce l'abbiamo noi era in italia che un anno prima che venisse adottato in germania la sfiducia costruttiva semplicemente è la sfiducia che viene data al governo ma deve essere data se si ha un governo di ricambio quindi se si fa la parse destruenza la parse costruenza cioè non si ritorna attraverso consultazioni lunghissime in cui non si sa come andrà si possono fare l'inciuce eccetera perché chi sfiducia deve avere già deve avere pronto una e se il presidente del consiglio venisse direttamente eletto dal parlamento in qualche modo avrebbe un'investitura e se il presidente del consiglio potesse lo stesso presidente nominare i ministri e di smetterli questo assicurerebbe quell'aspetto della coesione perché terrebbe in riga in qualche modo la coalizione no perché non sarebbe più noi giuristi diciamo usando il latino primus inter pares e primo tra pari sarebbe quello che comanda davvero sarebbe quello che comanda l'uomo forte del consiglio dei ministri diciamo un organismo sovraordinato agli altri ministri però lo abbiamo già visto in questa immagine qualcosa che è molto più di un primus inter pares professor cassese mi fate rivedere la macchia che ha fatto molto discutere questo è un video diciamo autoprodotto dalla presidente del consiglio che insomma arriva e mette in scena l'arrivo suona il campanellino insomma diciamo che in questa scena il consiglio dei ministri è lo sfondo diciamo del premier forte no che effetto le ha fatto questa questo video ma guardi ho visto diversi presidenti del consiglio entrare come dire con i ministri già seduti quindi non mi meraviglia diciamo e che si sono anche filmati mentre lo facevano no questa è la parte cinematografica e teatrale della cosa senta professore però io quando sento la presidente del consiglio in versione comizio ora è andata ad ancona l'accento sul tema del consenso delle gambe forte con i cittadini del fatto di dire chi governa deve ricevere diciamo un mandato degli degli elettori ci deve essere un vincolo di rappresentanza molto forte no che anche quello che dice matteo renzi d'altra parte cioè il governo deve più rispecchiare il popolo diciamo così va bene e questo è qualcosa di più della sfiducia costruttiva o il potere di revoca di un ministro questo è un tema di investitura popolare professor cassese c'è questa linea forte secondo me nel governo poi non so se lei dice secondo me meloni non ha questo obiettivo io dico per due motivi primo perché vedo che c'è un atteggiamento diciamo di rispetto per la forma del presidente della repubblica e poi perché non converrebbe perché non avrebbe la maggioranza dei due terzi ha sentito l'onorevole mollicone che ha detto chissà se servirà al referendum ricordiamolo se c'è una maggioranza dei due terzi del parlamento non si va al referendum no cioè non si finisce come finire come finire nzi no che perse il referendum confermativo della riforma secondo me si fa una riforma soltanto se si riesce a passare solo in parlamento con la maggioranza dei due terzi perché ci sono stati già due fallimenti 2006 berlusconi 2016 renzi senta professor cassese intanto le voglio chiedere un piccolo gossip politico perché ho letto su sul domani l'ha dedicato una pagina in cui si dice che lei in qualche maniera è il giurista che sussurra il presidente del consiglio nel senso che si consulta che la consiglia mi ricordo lei è stato candidato da salvini al quirinale in quella famosa visita si ricorda serale in quei giorni così diciamo accesi no e della della poi portarono la rielezione di mattarella lei fu consultato adesso meloni chiede consiglio a lei intanto non era salvini che mi candidava salvini mi faceva l'esame a le faceva l'esame una cosa diversa e l'esame come andò e lo chiede a salvini però però c'era qualcun altro che aveva fatto il mio nome primo secondo io ho sentito l'attuale presidente del consiglio dei ministri quando quando mi ha invitato al convegno di atreio su presidenzialismo ma non l'ho sentita successivamente quindi senta professore quando si dice la democrazia è basata sul consenso questa parola consenso è ossessivamente ripetuta oggi no quanto la democrazia è basata sul consenso e quanto sul bilanciamento e la separazione dei poteri tutte e due sono elemento fondamentale della democrazia meglio le democrazie ci dimentichiamo sempre che la forza della democrazia sta nella declinazione al plurale della democrazia comuni regioni parlamento nazionale parlamento europeo questo è più consenso il popolo che si esprime con più voci e poi ci sono gli strumenti di correzione interna della democrazia che rendono il potere e l'esercizio del potere mite no e fatto che la corte costituzionale il presidente della repubblica e così via e noi non dobbiamo disperdere questo patrimonio di bilanciamenti checks and balances no tra vari organi senta rai imps inail polizia di stato guardia di finanza come si sta muovendo il governo sulle nomine secondo lei male male perché questo addensarsi di nomine da l'impressione di qualcosa di molto negativo cioè di una sorta di occupazione del potere e secondo me questo è un difetto del nostro sistema non dell'attuale governo soltanto noi abbiamo troppe nomine che dipendono da rapporti di lealtà politica e troppo poche nomine che dipendono da una parola che oggi sta diventando come dire brutta merito competenza esperienza perché oggi si parla di spoils system che questa frase di cui ci si fa belli inglese sembra una pratica normale il mondo anglosassone la facciamo anche noi che vuol dire mettere però i propri al posto di quelli degli altri il problema è quanto questo venga fatto sulla base di criteri di competenze di merito oppure perché una persona se è capace non viene mantenuta al suo posto anche se è stata fatta dal governo precedente e questo non attiene quasi mai e questa è la cosa negativa che purtroppo abbiamo accettato per troppo tempo nel nostro sistema e che consente a qualunque governo di arrivare e di fare la politica delle spoglie sport system vuol dire spoglie il vincitore prende le spoglie del del nemico che è stato vinto e senta complessivamente oggi che giudizio dà del governo meloni in che cosa lo promuove e in che cosa lo boccia lo boccia nella prosecuzione di una linea che c'è già stata oramai da dieci anni troppi decreti legge lo spostamento eccessivo del potere legislativo dal parlamento al governo purtroppo su questo concorrono gli interessi del governo dello stesso parlamento e dell'alta burocrazia questo è un aspetto negativo l'altro aspetto negativo è quello di aver adottato una serie di decreti legge che creavano nuove figure di delitti uniti in sede penale quando tutti sosteniamo da anni che sono necessarie depenalizzazioni terzo è questo addensamento di nomine diciamo fossi stato io lì avrei detto intanto confermo quelli che ci sono per dare il segno della continuità dello stato la rai è proprio recuperabile professore dal punto di vista dell'occupazione un tempo c'era la lottizzazione che voleva dire comunque in qualche maniera la presenza di maggioranza e opposizione attraverso le direzioni di rete oggi sembra che ha scritto oggi un bel un bell'articolo mario la via sull'inchiesta in cui dice la rai è il vero luogo del maggioritario del collegio maggioritario chi vince prende tutto esatto sì no purtroppo la rai è recuperabile perché il problema fondamentale dei mezzi di comunicazione e dovrebbe essere l'indipendenza insomma c'è una letteratura un'esperienza di tutti i paesi moderni in questo in questo senso quindi la rai va totalmente staccata dal potere politico questa è la verità avremo mai un una repubblica presidenziale dal punto di vista della sua esperienza dalla sua conoscenza degli italiani e dei meccanismi italiani se lo chiede come una previsione dico che è possibile che avvenga se me lo un paese che è così conflittuale come l'italia e con una frammentazione tra le persone che sono in conflitto le forze politiche sono in conflitto avere una scelta bianco o nero crea una conflittualità ma è maggiore ancora quindi è bene che ci siano organi ammortizzatori il parlamento è un grande ammortizzatore nel parlamento si dovrebbe parlare si dovrebbe negoziare si dovrebbe trovare dei compromessi questo è il compito di questi perché ci sono degli organi collegiali perché perché c'è il parlamento e non il re no quegli organi quegli organi collegiali pensi che quando si fu scritta la costituzione si pensava molte persone pensavano a una presidenza della una presidenza della repubblica direttoriale cioè composta di un collegio di persone persino alla presidenza della repubblica doveva avere un dialogo al proprio interno doveva avere un dialogo al proprio interno ma oggi i parlamentari sono scelti dai partiti non sono scelti da noi questo purtroppo dipende dal nostro sistema sistema elettorale però noi diamo il consenso a quelle scelte dei partiti questo è il problema e i partiti ottengono questo consenso un consenso sempre minore siamo partiti da un consenso del 93 per cento poi siamo arrivati all'ottanta poi a 60 adesso e come sappiamo in alcune elezioni ci sono amministrative siamo scesi drasticamente sotto la metà siamo scesi meno al 50 per cento sì professor cassese grazie per essere stato con noi niente buona serata allora